23 punti piena zona playoff salvezza a portata di mano terzo risultato utile consecutivo casalingo sono i numeri di un sorprendente vasto girardi che lascia solo le briciole all'alba longa e si gode un'altra prova importante neanche la nebbia presente sul ditella gara iniziata con qualche minuto di ritardo ferma i alto molisani con fioretti in attacco il luogo di mercai e pesce mezzo al campo ospiti subito pericoloso angelini innesca cardella che saggia i riflessi di guerra con il porterino sempre attento la prima offensiva dei padroni di casa si concretizza sull'asse guglielmi gentile colpo di testa palla a lato l'attacco giallo blu guidato da fioretti eccolo all'opera occasione ghiotta qui avrebbe potuto fare di più è il preludio al gol il vasto girardi muove bene la palla saladino e guida fanno a mattire la retroguardia laziale il tre quarti tascabile trova l'angolino dove santilli non può arrivare la reazione laziale firmata dal solito cardella il più pericoloso dei suoi anticipato da guerra in uscita bassa allo scadere l'episodio che chiude i giochi pacciardi fa il fenomeno in area avversaria e viene steso canci di carrara non ha dubbi è rigore dal dischetto fioretti impeccabile due a zero e tutti a bere un tè caldo nella ripresa non succede quasi nulla fioretti manca la doppietta da buona posizione l'alba lunga tra la nebbia si rende pericolosa con il solito cardella che in pieno recupero trasforma il rigore assegnato dall'arbitro per questo fallo che il 9 subisce da ruggeri finisce 2 a 1 per il vasto girardi altra giornata da incorniciare e dal sapore dolcissimo grazie a tutti